good morning juventus in attesa di ripigliarvi dall'influenza voglio parlare di un argomento che mi è molto caro che chi ha visto il titolo e la copertina di questo good morning avrà sicuramente intuito allora io dovesse malauguratamente dio non voglia e tutti gli scongiuri del caso rimanere allegri sulla panchina di juventus anche l'anno prossimo consiglio aggiuntoli manna calvo elca insomma tutti scanavino panevino e ferrero rocher di cambiare l'inno almeno finché ci allegri da juve storia di un grande amore di paolo belli con piccola e fragile di drupi perché questo perché la juventus che noi stiamo vedendo da tre anni a questa parte è piccola e fragile perché piccola perché fragile piccola perché non è più una grande perché in europa abbiamo fatto schifo mi ha fatto abbiamo fatto ridere i polli ci prendono in giro anche degli stranieri poi vi racconto un aneddoto che mi è capitato di vedere per caso sul fatto che la juventus non è più una squadra grande ma è una squadra piccola quindi diciamo che siamo alla strega delle squadre che ci hanno messo in difficoltà no l'udinese l'empoli il frosinone il verona in attesa di altre fragile perché fragile perché nonostante si possa andare in vantaggio con l'empoli siamo andati in vantaggio col frosinone siamo andati in vantaggio ci facciamo prendere e addirittura superare siamo fragili fragili mentalmente fragili tecnicamente perché perché non c'è un copione non c'è un copione scritto i giocatori vanno in campo l'ho detto più volte in maniera sarcastica oggi voglio dire in maniera molto seriosa vanno vanno in campo allo stato prado non sanno a chi devono dare il pallone non sanno come devono muoversi in campo queste cose io non pretendo i giocatori telecomandati alla conte perché conte telecomandava i giocatori pensate che c'era un'azione di gioco che aveva aveva aggiostrato con pierlo e con l'instein che in base a come si muoveva l'instein sulla fascia pierlo lanciava la palla o a sinistra o al centro oppure in beccava l'instein ricorderete che lei aveva fatto qualche gol proprio così perché perché questa era una cosa che aveva studiato in allenamento cioè a lei con siamo passati da un allenatore che faceva schematizzava anche quante volte andava a letto con sua moglie a uno che non schematizza proprio niente da parte uno che scrive che il calcio è una cosa semplice non è che puoi pretendere molto il calcio non è una cosa semplice il calcio è semplice da guardare è semplice da vedere ma non è semplice perché ci sono tattiche ci sono schemi ci si evolve ci sono fior fior di allenatori che ti imbrigliano tutti quelli che vengono a giocare contro la juventus o dove andiamo noi a giocare ci imbrigliano senza problemi per cui è una juventus fragile però problema qual è il problema è che molti sono convinti ce ne sono ancora tanti sono convinti che non il tecnico non abbia colpe o ne abbia poche ok ok a poche colpe ma chi è che mette in campo kostic che è un giocatore imbarazzante chi è che mette in campo un ex giocatore come sandro chi è che mette in campo un mai stato giocatore da juventus mai stato giocatore da juventus come miretti chi è che mette a centrocampo milic quando tutti sanno che è un ariete perché milic se lo metti davanti la porta qualche golletto niente di trascendentale te lo fa ma se tu lo porti a centrocampo lo uccidi e di fatti sta facendo delle prestazioni pessime l'unica partita dove ha giocato punta proprio quel forcinone in coppa italia ha fatto tre gol voglio dire due indizi fanno una prova no ok per cui è piccola questa squadra piccola come il suo allenatore è fragile il suo allenatore non è fragile attenzione il suo allenatore è arrogante è presuntuoso è saccente e soprattutto se sente che un giocatore non è amato dal pubblico se sente che una certa situazione non è amato dal pubblico lui fa apposta a schierarla fa le prove del 4-3-3 e poi se ne sbatte veramente i maroni no e fa il 3-5-2 poi un giornalista gli chiede in conferenza stampa se passerete alla difesa 4 gli ha risposto bellamente ma noi giochiamo sempre con la difesa 4 allora lo ammetti che tu a costi ci dice di stare basso al fianco del terzino o pseudo tale sinistro allora gli avrei chiesto tu ecco chi è che ha rovinato costi perché costi noi l'abbiamo visto giocare bene le prime partite quando allegro non aveva ancora inciso sulla sua mente nel momento in cui allegri lo ha praticamente che dire plasmato è plasmato lo ha rovinato voi guardate costi ce la sua testa dell'aspetto tecnico guardate costi ce non sorride mai è sempre contratto sembra triste io penso di capire perché sia triste per colpa di quello che è seduto in panchina che gli fa fare cose di cui lui non è all'altezza e lo castra tant'è che quando quelle poche volte che prova a spingere qualcosina di buono lo fa ma poi lo fa talmente poche volte e lo stesso discorso vale per sandro sandro quando arrivò la juventus era un signor terzino sinistro veniva sul fondo come una come una lippa come si dice da mie parti faceva cross ponteva in mezzo palloni no cioè abbiamo avevamo l'iksteiner e sandro tanta roba tanta roba versi due qua terzino destro terzino sinistro poi l'iksteiner invecchiato e sandro si è involuto perché perché allegri gli diceva di stare basso di non osare ed è lì che è cominciato il rugby con i piedi come lo chiamo io cioè i passaggi all'indietro e adesso che sandro non gioca quasi mai fortunatamente i passaggi all'indietro li fa sempre costici quindi il problema di questa juventus purtroppo l'hanno capito soltanto persone di buon senso perché le persone ottuse perché si tratta di ottusità qui non si tratta io a volte esagero e chiedo scusa se magari ho offeso qualcuno ma chi difende allegri è ottuso cioè non vede la verità delle cose è come uno che torna a casa trova la moglie a letto con un altro va bene e crede che sia un ladro che sta cercando di rubare le lenzuola capite cioè non esiste non esiste te la sta trombando fatti una ragione fatti una ragione te la sta trombando devi cacciare fuori di casa la moglie e l'amante cioè dove è il problema e noi abbiamo un allenatore che sta facendo il male della juve e quindi dobbiamo cacciarlo perché ripeto se siamo diventati da una juve che ha dominato per nove anni va bene costruendo squadroni uno più forte dell'altro anno dopo anno sostituendo i giocatori che andavano via con altri giocatori di pari livello o più o meno dello stesso livello nel momento in cui una rotta ha deciso che non c'era più il giocattolo con cui poteva lavorare in maniera seria è rimasto tutto nelle mani di andrea agnelli che è uno che ha tante idee perché andrea agnelli ha tante idee e da questo punto di vista bisogna levarsi tanto di cappello il problema è che spesso le applica male la super lega ha fatto un golpe e l'ha pagato caro la juventus la scelta di parati cenedet come responsabile della juventus è stata una cosa troppo veloce e l'ha pagata la scelta di pierlo come allenatore che non aveva esperienza è stata esagerata è vero coppa italia supercoppa ma chi sono quegli juventini che si esaltano per la coppa italia la supercoppa parliamoci chiaramente sono degli sfigati questi juventini qui se lo juventino vero come minimo vuole vincere lo scudetto come minimo non la coppa italia per non parlare la supercoppa italiana per cui dai diciamo le cose come stanno la juventus è veramente adesso in questo momento da tre anni questa parte tre anni e mezzo questa parte piccola e fragile un'ultima cosa che vi avevo promesso di dirvi che mi ha colpito tantissimo l'altra sera io io non guardo mai la televisione no io guardo film serie o col visore vr oppure col mio tablet super dell'ipad super oppure col mio schermo gigante foto film e cose non guardo tv l'altra sera io sono lì che sto leggendo un libro che leggo molti libri e mi squilla il cellulare no non vi dico chi era era un mio parente stretto che mi dice max max metti su rai 1 metti su rai 1 alle 9 meno meno 10 no no le 8 cosi sono le 8 sì sì le 9 meno 10 9 meno 10 7 50 metti su rai 1 fidati fidati vabbè mi butta giù e io buttate giù il telefono accendo la televisione metto su rai 1 e c'è amadeus che fa affari tuoi mi pare quello dei pacchi sono non so come si chiama questa trasmissione quello dei pacchi che avevo visto qualche anno fa quando c'era direttore bonolis che mi faceva troppo ridere poi non ho più guardato perché ripeto non guardo la tv perché mi intristisce e una cosa mia ci mancherebbe e insomma fatto sta che c'era ospite un concorrente che partecipava a quella sera era juventino un signor di aosta simpaticissimo con un barbone lungo 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 fatto sta che amadeus gli chiede come mai sceglie sceglie il numero 9 come pacco e perché la barba lunga lui risponde 9 come le finali che ha perso la mia juve no e quindi ho capito subito perché mi è stata fatta la telefonata non di guardare perché c'era un juventino ma in più mi sarei aspettato di sentire quello che ha detto poco dopo perché amadeus gli ha chiesto ma come mai questa barba e allora lui ha spiegato che la barba l'ha fatta crescere dopo la finale del barcellona persa contro il barcelona giustamente quindi il 6 giugno 2015 che mi sono anche sposato quel giorno io con la mia fidanzata di sempre cioè la barbara e lui ha detto fino a che la juve non vincerà la Champions League io non mi taglierò la barba c'è la lunga così fate conto fino a qua io ce l'ho corta lui sarà fino a qua ma la cosa che lavorosa sapete qual è che lui ha raccontato di aver fatto tre anni fa un viaggio a Cuba girandolo in moto divertendosi e tutto quanto e ha conosciuto un signore del posto un cubano anziano che l'ha portato a visitare i luoghi caratteristici gli ha offerto il rum tutte queste cose qua e tra una bevuta di rum e l'altro il tipetto qua cubano ovviamente in lingua sudamericana che lui ha tradotto per noi in tv gli ha chiesto come mai avesse questa barba no quel vezzo della barba e lui gli ha risposto ho deciso di tenere la barba fino a che la juventus non vincerà la Champions League il vecchietto l'anzianotto cubano gli ha dato una pacca sulla spalla e gli ha detto caro mio tu morirai con la barba ora chiusa la parentesi spero simpatica se un vecchietto quasi novantenne cubano cubano non argentino non spagnolo non brasiliano cioè di compagini di nazioni dove il calcio è come per l'Italia no un must ma Cuba dove c'è manco sappiamo se c'è una squadra di Cuba per dire no ditemi il nome di una squadra cubana boh chi la conosce l'Havana forse il sigaro se un signor anziano di 90 quasi 90 anni fa una battuta del genere a uno juventino italiano in vacanza a Cuba questo vi dovrebbe dare l'idea di come noi siamo derisi nel mondo a livello continentale cioè a livello europeo ci prendono tutti per i fondelli perché perché la juventus non ha una storia europea la juventus ha una proprietà che non è all'altezza di poter puntare cercare di vincere la cupa dei campioni così come ha fatto Berlusconi con Galliani così come ha fatto il papà di Massimo Moratti che poi tra l'altro Massimo Moratti gli è andata di culo perché è riuscito a vincere un anche lui invece purtroppo questi qui specialmente da quando c'erano Agnelli e Elka nella cupa dei campioni l'hanno vista col binocolo ecco quindi piccolissima quasi derisa in Europa e negli ultimi anni purtroppo dopo aver dominato piccola e fragile in Italia questa purtroppo è la juventus e questo è il problema grosso della juventus c'è solo un modo per rincominciare ok non usare come canzone quella di papalardo ricominciamo no assolutamente rimaniamo su piccole e fragili ma per poter togliere subito piccole e fragili tornare a storia io di un grande amore bisogna mettere un allenatore che capisca di calcio faccio il nome ormai lo sapete tutti a memoria che è il mio preferito Tiago Motta e sono sicuro che anche se non vinceremo però ci divertiremo perché ragazzi vedere le partite di calcio deve essere un divertimento non necessariamente vincere io ieri l'altro ieri la partita con la Frosinone non mi sono divertito ho goduto come tutti quanti voi il gol di Rugani soprattutto per lui perché sarei meritato ma non mi sono divertito ero incazzato come una iena perché una squadra che becca due papine in casa della Frosinone dopo che va in vantaggio e poi meno male che Vlauvi è in super forma altrimenti col cacchio che vincevamo per cui speriamo signori speriamo che il 26 maggio sia l'ultima panchina di Massimiliano Allegri per la Juventus perché lo dico prima è impossibile anche se perderà sicuramente molte partite adesso con il cadale che abbiamo è impossibile che lo esonerino prima purtroppo aggiungo io perché chiunque venga al posto d'Allegri qualcosa di meglio farebbe non giocarebbe più Kostic o Kostic giocarebbe alto in un 4-3-3 perché è assurdo ma io sono convinto che se Kostic che io non amo lo sapete tutti giocasse terzo di sinistra nel 4-3-3 con Vlauvi e Chiesa a destra oppure vedete voi chi preferite ok la Juventus sarebbe molto più bella molto più offensiva e molto più pericolosa meno piccola e meno facile Good morning Juventus